Il collegio è stato registrato durante l'emergenza sanitaria, prima del decreto legge 372 2020. L'UO 125 rispetto dei protocolli studiati appositamente ha permesso di raccogliere la storia dei ragazzi e di portare a te i miei piedi di sicurezza. Quindi siamo legge anche nel farlo reaction. Il gran giorno è finalmente arrivato. Ciao! Ciao! Che vuol dire mosca? E' arrivato il momento di consegnare le robe fietate, ovvero tutto quello che tu ti porti per qualche motivo che non sai neanche tu. Tanto sai che te le prenderanno, perché cazzo te le porti? Vabbè, questa ha vinto tutto. Voleva corrompermi? Ahahahah! Questa è un po' di cibo, perché te la devi morire. E poi le racconti, vedo un po' di cose. Hai chiesto le nostre macchie sacche? No, vabbè. No, vabbè. Gringi, 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 gringi. Ma cosa? What? What the? Ma... Perché devi prendere per il culo la sorvegliante? Lei dove studia? A Straburgo, in Francia. Alla colla europea. Italiano, lo spagnolo, l'ubile, il francese e il tedesco. Una cosa è certa. So bene come farmi capire. Sì? Madonna! Madonna! Un'altra non devi imparare. Poi è di Pesaro. Ci avremmo incontrati 600 volte. Eccola! Proprio prima, chiaramente. Quanti followers? 77.000! Ricordati sempre di noi. E' il traduttore del Parlamento Europeo ora in Francia, perché da due anni che studia là. A 15 anni. Traduttore del Parlamento Europeo in Francia. 15 anni. Io faccio tutto il video in tedesco. In inglese forse capisco un po' di... Let's start the lessons. Benvenuti a me che leggo i miei compiti d'inglese. Per domani, il 29, ho scritto il mio bellissimo testo. Perché I am very intelligent. Con la maglia di it. Sono very intelligent. Today is my favorite day of the week. I like the history. The lessons are very nice and interesting. Then we have English. English is my favorite subject. Non è paracolo. Because the people in the video game speak English. And if I want to chat with them, I need to talk English. Math is okay. Sometimes difficult, but I like it. Sono pronto per diventare il traduttore del Parlamento Romano in Germania. Per insegnante di matematica o di scienza? Mi sembra un po' morsi. Perché figli miei, sei da allora giovani. Figli miei, c'hai 14 anni, ce ne hanno 60 figli miei a loro. Allora ragazzi, c'è stato un copito in classe per decidere i ammessi. E vediamo chi viene ammesso. Io penso manco mezzo, considerando quello che hanno scritto, ma... E quindi può venire, prendere la sua divisa e risedersi. Bravo. A terra. Venga a ritirare la sua divisa. Ufficialmente collegiale. Allora, tizio che mi ha chiesto di fare questa battuta. Suza, mi ha chiesto di dire delle cose in questo video. Io non è che le dico perché le faccio piscire a loro, le dico perché sono vere. Nella mia classe c'è una che è identica a questa. È precisina, uguale. Ora, per privacy, perché altrimenti potrebbe vedere questo video anche ciao. Sicuramente hai capito. Dunque, a parte ste robe, è veramente identica. Voglio dire che è entrata. No, dai. Se volete vedere questa parte dovete seguirmi domani per la seconda parte. E altrimenti non uscirà mai. Ciao.